Erano una classe di ragazzi normali. Rachel, come fai a tenere Abbada i nervi sul palco? Sembra emozionata. E hanno conquistato il mondo. Perché siete già tutti in piedi? Non hanno ancora fatto niente! Sing it from the heart. Sing it to your nerves. Sing it up for the ones that'll hate your girls. Sing it for the death. Sing it for the blind. Sing about everyone that you left behind. Sing it for the world. Sing it for the world. Tutti hanno un sogno! E questo è il mio! Glee celebra i perdenti e parla alla parte più sfigata di ognuno. Porta qui il sedere, facciamoli sognare! Per favore, risparmiate i soldi. Questa roba fa schifo. dal 16 settembre per un periodo limitato. In 3D. Colonna sonora distribuita dalla Columbia Records. e poi non ciò che iso. Un precedente. Un relazio ca ohno! E' fermato! Un relazio carico. Grazie a tutti